Okinawa a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans, signori E quest'oggi siamo qui con un nuovo video sulle CWL, signori Sono iniziate finalmente le CWL, quindi andremo a fare un po' di attacchini lì Ma prima di iniziare voglio ricordarvi che in questo tema in descrizione c'è il link delle mie Amazon Wish Se volete passare c'è da cerocchiare ma rifarmi un regalino, io ne sono molto molto onorato Inoltre c'è il bellissimo sito di coffee dove potete fare una donazione singola o a carenza mensile Scegliete voi il prezzo, scegliete voi tutto, direi che è molto molto onesto Soprattutto voglio invitarvi ad iscrivervi al canale perché ho visto che molti di voi guardano i miei video Ma non sono iscritti, a voi non costa nulla, a me fate un piacere enorme Se attivate anche la campanellina rimanete sempre aggiornati su tutti i video Vado a pubblicare regolarmente dal martedì al sabato 14.30 puntuali sul canale Mi raccomando signori, ma basta parlare troppo Allora abbiamo fatto i dinforzini, abbiamo le truppe già pronte Andiamo a vedere un pochettino questa CVL signori Per questa CVL ci siamo organizzati con qualche profilo in più Qualche persona in più sul TH16 Quindi tanta tanta roba Noi siamo arrivati alla posizione numero 9 Quindi devo attaccare il numero 9 Poi abbiamo un attacco con Ciris, abbiamo un attacco anche con Kirito Quindi secondo e terzo account E raga, è interessante Andiamo a vedere il nostro avversario Che è questo qua, questo qui Ok Come lo attacchiamo? Da che lato c'è questo veleno che è una rottura di scatole E anche questa In realtà Però, 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 però Se noi lo attacchiamo lì Sopra, qui sopra Penso di sì Lì sopra, qui sopra Raga Spiegazione perfetta Lo attacchiamo lì sopra, qui sopra Vai Iniziamo l'attacco senza pensarci troppo Che sennò perdiamo troppo tempo signori Dobbiamo essere carichi Senza starci a ragione troppo Che poi alla fine non riusciamo a fare neanche l'attacco Se no, in un va bene Io qua vorrei provare a fare questa cosettina Che se io la gelo quella In teoria Non dovrebbe esplodere Non fa da tempo Va bene Va bene signori Ci ho provato io Non ci sono riuscito Però vai Via tutte quante le truppe Giù Giù, giù E via Perché così Rega tanto Dovremmo entrare Prepotentemente Se no Qua è un bel casino Un'altra La mettiamo qui Attiviamo l'abita anche del sorvegliante Vai con la cura Più o meno stiamo entrando cattivi Bello Ok Dovremmo essere entrati Abbastanza prepotenti Rega Cioè stanno tutte le truppe qua Se non ci esplodono male In teoria dovremmo Arrivare anche al municipio Mi auguro Saluti qua Tutti gli eroi Signori dai Entrate di cattiveria Per favore Portatemi a casa La stellina del municipio Almeno quella Non dico tanto Almeno quella del municipio Per forza Poi Le altre In realtà è relativo Ma penso che Penso che Basta parla troppo Si sta parlando troppo Stamattina Rega Se io dico Penso che Un'altra volta Secondo me Arrivai karma Da qua dietro Che mi dice Oh Ha finito Te la smetti Di tipo Secondo me Ma secondo me E perdo Quindi Stammoce boi In attimo Stammoce zitti Anche perché c'è sta Quel massino lapico Che rompe le scatole E non poco Signori Non poco E si esplode La regina ci mette 70 anni Per ammazzarlo E viene colpita Da qualsiasi tipo Di struttura Però ci abbiamo Ancora tre streghi Tre streghi Streghetti O stamattina La dislessia Rega Ma che è Ma che è Va bene Va bene Va bene Va bene Dai torre Dello stregone Torre dello stregone Mi è venuta bene E torre dell'arcene Vai regina Veloce Madonna quante bombe Ci stavano qua Veloce 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 Ce l'abbiamo fatta Le tre stelline Ce le siamo portate a casa Bene Ottimo Così signori Iniziamo Subito col botto Bono Bono Sono molto Molto contento Di questa cosa Io metto in addestramento Di nuovo Le altre truppe E faccio Il login Con il secondo account Quindi ci vediamo Tra pochissimo Bene signori Eccoci Loggati Con il secondo account Che rega Avete visto Quante risorse Ci abbiamo qua Tra poco Uscirà fuori il video Dove andiamo a spendere Tanti milioncini Ma non vi preoccupate Arriverà Più in là Ovviamente Rinforzino Stato fatto Le truppettine Sono pronte Andiamo a vedere Quale sarà Il nostro avversario Noi siamo Il numero 16 E dobbiamo attaccare Il numero 16 Ok È un villaggino Bello largo In realtà Bello 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 largo Molto bello largo Però noi abbiamo Mitraghi elettrici Quindi In teoria Io voglio controllare Un attimo Se abbiamo anche Le pozioncine Scusate Rega Perché È importante Vediamo un pochettino Quella degli eroi Ce l'abbiamo Quella Delle truppe Dovrebbe essere Questa qua Perché Ancora Non abbiamo Alzato Il Bellissimo Laboratorio Ma si sta migliorando Quindi Ci servono Le truppe Maxed E dobbiamo Utilizzare La pozione Vai Allora 16 Ricognizione Vediamo un attimo Questo io direi Che lo attacchiamo Da qui sopra Rega Da sopra in alto Con La Cosettina La sputa tronchi Che scende giù Verso la eagle Un altro Un altro Draghetto elettrico Qua sotto E poi ci ripiazzammo Tutti quanti qua Da sto lato Proprio a dritto A dritto Verso così Che penso E secondo me Il modo migliore Ci proviamo Vai Senza pensarci troppo Diretti Allora Potenziamento Dell'esercito Potenziamento Dell'eroi Via Potenziamento De qualsiasi cosa Qua mettiamo La sputa tronchi Uno Due Draghetti Un Sputa tronchi E una campionessa Ce la piazzamo Che così Intanto Va pulì Laggiù Dobbiamo mettere Una piccola Gelo Sulla torre inferno Perché se no Ci spacca male La campionessa I draghetti Sono andati Direi che io ce li sparo Tutti quanti Così De cattiveria Vai Con doppia Ok L'ho preso Doppia furia Intendevo Gelo Gelo lì sopra Come se non ci fossero Domani Gelo Di qua Dimmi che prendi Entrambe le cose Bello Così Vai De molta 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 Cattiveria Vai Ti prego Prendi Ok Ce stiamo Regà Più o meno Ce stiamo Siamo entrati Abbastanza interni Al villo Vai 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 Per favore Non vi fermate Adesso Continuate Sul municipio Buttate giù Quel municipio Ok Ci abbiamo ancora Angello Dobbiamo stare attenti A utilizzarla Al momento giusto Però se questi draghi Si mettono a fare Tutto al giro Mi lasciano Il municipio Così in mezzo È un bel problema Regà Attenzione signori È un bel problema Perché fanno tutto Quando il giro Facciamo una stella Soltanto Signori Non va bene Draghetto Regina Girati Perché Perché Vabbè Aspetta Però non è detto Non è detto Signori Perché Magari Se spaccano tutto Potrebbero anche Chi lo sa Chi lo sa Vediamo Perché c'è un altro Draghettino laggiù Che sta a fare pulizia Quindi Che non è male Il re barbaro Si è incastrato là Con quel muretto Però vabbè Ce sta Se adesso Se raggruppa Insieme alla queen Bello Che magari entrano Entrambi Nello stesso posticino Non sarebbe male La queen Devo attivare L'abilità Per forza Perché se no Tra poco Ci muore Se entrano lì Bello Quel murettino Bravi 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 Entrate di cattiveria Io direi Che piazzo Tra poco Regina Perché stai a fare Il giro sotto Perché stai a fare Il giro sotto Devo mettere Eh Regà Qua è tragica La questione Devo mettere Un angelo Eh No Ci muore Ci muore Ho aspettato troppo A piazzare il gelo Che sfiga Regà Che sfiga Questo è un fail Della madonna 95% Una stella Signori Mamma mia Mamma mia Perché poi la regina È scesa sotto Se entrava insieme Al re barbaro Attaccava Poi io sono rincoglionito Stamattina Regà Va bene Va bene Ci ho perso troppo tempo Per piazzare un angelo So scemo Però Ci sta Facciamo il login Con il terzo account E proviamo a fare qualcosa Di meglio Con quello Partiamo a bomba Poi super mega fail Poi Chi lo sa Ma lo vedremo Tra pochissimo Bene signori Eccoci Loggati Siamo pronti Per attaccare Con il terzo account Rinforzino Lo abbiamo fatto Andiamo a controllare Subito Quale sarà Il nostro avversario Noi siamo Il 28 Dobbiamo attaccare Il 28 Chi ha Un TH alto Ma difese Merda La merda Più totale Ok Regà Va bene Attacciamo Sto villaggio Che devo dire Vabbè Ci sta Cioè È molto Molto Rasciato E scarso Io utilizzo anche Le pozioni Giusto per Per sicurità Però Diciamo che Diciamo che Sto diciamo che Stamattina Abbiamo detto tante volte E poi alla fine È andato sempre Male Però vabbè Se non facciamo Tre stelle A questo Io me dovrei Presumo Forse ritirare Da clash of clans In assoluto Per sempre Perché Vorrei dire Vorrei dire Insomma Dai Ok Riazziamo tutti I draghettini Vai Così De cattiveria Furia e furia Perché tanto qua Ci stanno a mettere Tre ore per arrivare Se difese Che legge L'affare Che tanto Ci hanno So Le difese aere All'uno Cioè Non serve a nulla Però La eagle Sì Le torri inferno Sì Anche se stanno All'uno Presumo Però è sempre Cioè questo Questo non c'è Una difesa Alzata Questo è Un account Full Rushed Perché La difesa massima Forse è da quella Torra Alcere qua sopra A livello Tre Cinque Roba del genere Cioè Tutto il resto Tutto basso Non ha alzato niente Però Va bene Meglio per noi Ma che ci frega Tre stelle facili Facili Siamo contentissimi Così Siamo contentissimi Così Ok Vai L'ultima struttolina Buttate laggiù Tre stelline Easy Bello Bello Se fa per dire Bello Però vabbè Ci sta Sono curioso Di andare a vedere Il 2 Che sta attaccato Da Dracarys Che tra l'altro È un altro account Di Dark Angel Che è il nuovo ragazzotto Sono curioso Di vedere Come attacca Signori Lui In CVL Allora Ha fatto un attacco Misto Draghi Drago elettrico Cavalca Draghi Bongolfiere Ok Ok Madonna Ha messo un po' di tutto Pozione invisibilità Su Bello Sugli arciretti Così ha fatto Un bel po' di danni Peccato Peccato Che Peccato Che Anche Il TH Era diventato invisibile Stamattina Non mi vengono le parole Regà Non So dislessico Va bene Non ci fate caso Tanto oramai Mi conoscete Lo sapete Un che si è portato A casa Il TH Così Con i super arcieri In modo molto Molto Easy 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 Forse ha utilizzato Qualche Invisibilità De troppo Che magari Gli poteva servire dopo Però Comunque Le tre stelle Signore Abbiamo visto Che le ha portate a casa Quindi ha fatto Un signore Attacco Vai dei draghi De cavalca draghi Prepotenti Bello Bello Così Belli cavalca draghi Io non li so Di più di tanto Ma sono Molto Molto Forti Secondo me Di prepotenza Mettiamo Velocità Per 4 Giusto Per vederlo Nel complesso Com'è andata Per pare Abbastanza liscia Tutto sommato Non è Non è che Ha faticato Tantissimo A portare a casa Queste belle Tre stelline TH Avversario Quasi maxed Quindi GG Bro Veramente Complimenti 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 Ok Io sono curioso Di andare a vedere Vitto Che è il numero 7 Che ha attaccato Il numero 7 Ha fatto tre stelle GG Vitto Complimenti Complimenti Anche a te Ma vediamo Come ovviamente Vitto attacca Con i draghi elettrici E tantissimo Che non portavamo Vitto Forse Che non vedevamo Vitto L'ultima volta Non l'abbiamo visto Quindi Diamoci un'occhiata Vediamo come si è comportato Vabbè Ha fatto un po' De pulizia laterale Anche se incompleta Perché qua non l'ha completata Però va bene Ha piazzato le truppe De cattiveria Con le furie Verso il centro Quante furie ci hai messo Vitto Due furie soltanto Non ci ho fatto caso Vabbè Gli eroi Tutti quanti prepotenti Abilata del sorvegliante Messa al centro del pillo Quello Super mega sgheri Dietro che aiuta Napoli Se butta giù La torre inferno Perfettissimo Ottimo Regà Bello Così E tutto il resto Viene da sé Tra l'altro C'aveva gli eroi Quasi morti Quindi Vitto Hai rischiato un pochettino Caro Vitto Tra l'altro Ha utilizzato la volpe Su Sulla Queen Sì Vabbè Sulla Quinde Ciao Sulla campionessa Che ci sta Ma la campionessa Vitto Ce l'hai all'undici Perché non hai utilizzato Sulla pozione Delle truppettine Eh Vitto Dei eroi Se andavi più sul sicuro Però vabbè Comunque Il 100% Se l'hai portato a casa Complimenti anche per Vitto Direi che è stato onesto Così Comunque Signori Che dire Dopo un Mega inizio Un Secondo inizio Di Mini fail Mega fail Non mini fail Mega fail Terzo Inizio Di Non so Che tipo De villaggio Era quello La Quindi Va bene L'abbiamo Detonato Malamente Direi che Può essere Tutto Ovviamente Vi invito A lasciare Un bel like Per questo Ciris Rincoglionito Questa mattina Signori Cioè Io mi sento Dislessico A 3000 A 3000 Poi fa Caldissimo Quindi un bel like Di supporto Soprattutto Scrivermi Un commento Con scritto Cosa ne pensate Se ne volete Vedere Degli altri Delle cvl Io ve li porterò Molto molto Volentieri E mi auguro Di riuscire A non fare Questi fail Qui Se vedemelo Comunque Nei commenti Scriveteci Quello che vi pare Va bene Tutto Va bene Tutto Cosa importantissima Condividete il video Con i vostri amici Perché più stiamo E meglio è Soprattutto Iscrivetevi al canale Perché ho visto Che molti di voi Guardano i miei video Ma non sono iscritti A voi Non costa nulla Mi fate un piacere E enorme Soprattutto Attivate la campanellina Per rimanere sempre aggiornati Su tutti i video E vado a pubblicare Dal martedì Al sabato Tutti i giorni 14.30 Puntuali Sul canale Mi raccomando Signori Se volete passare Anche da Instagram A dare un'occhiata Dove ogni tanto Faccio qualche Spoiler Di progetti Futuri del canale Oppure vi avverto Che è uscito Un nuovo video Dateci un'occhiata A me fa comunque piacere In niente Qui da Ciris E' tutto Un saludone Bella raga Ciao